Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento. A memoria una tragedia di queste proporzioni in marmolada non la si ricorda? Questo no. Diciamo che è un fatto grave, pesante. Ci era triste molto e ci creavano qualche. Non c'erano state allerte rispetto all'aumento della temperatura, circa il rischio di ascese in montagna? Lì eravamo in un punto roccioso ancora, non eravamo su ghiaccio, dove è caduto, le persone sono state colpite. Chiaro che la temperatura era sopra la media, questo è dato di fatto. C'è stata una grande collaborazione istituzionale tra la provincia autonoma di Trento, la vicina provincia autonoma di Bolzano e anche la regione Veneto. Sì, io ho avuto modo di sentire il presidente Zaia, ci sentiremo anche nelle prossime ore. e ho sentito l'ingegner Curcio della protezione civile, il presidente Draghi. Diciamo che in questi momenti c'è una forte collaborazione istituzionale, come sempre. E cosa le ha detto il presidente del Consiglio? Il presidente del Consiglio era ammaricato e mi ha giusto ringraziare tutte le donne e gli uomini che stanno operando sul territorio. E' una sorella. E' una sorella.